Amici, siamo nel bellissimo quartiere Fonse di Mare, Porto Sant'Elpidio. Siamo col Presidente Alberto Bellesi e col figlio Daniele che ovviamente fate parte dello stesso direttivo di questo bellissimo quartiere che ha bisogno comunque, come dicevamo con Daniele, ancora di crescere con questo progetto che è qui alle nostre spalle. Questo lo ha presentato questa sera la nuova amministrazione sperando che si realizzi presto, in concreto. Ci vuole un po' di tempo. Ci vuole un po' di tempo. Io penso dentro quest'anno e all'inizio del prossimo anno così dovrebbe venire fuori. Come sto disegno. Quindi siete ottimisti? Sì, ormai le promesse sono state fatte a meno che non fa... Ci ha messo il nome il sindaco. Eh sì, sì. È la città che verrà e credo che c'è un'ambizione di essere di parola. Sì. Fino adesso mi pare che l'amministrazione è stata più o meno sempre di parola, no? Più sì che no. Sì, sì, sicuramente... Non è politica, è qui. No, 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 sicuramente tutti sappiamo che questo è il quartiere d'ingresso della zona nord. Sia di Porto Sant'Elpino ma anche di tutta la provincia di Fermo. Per cui ha delle grandi potenzialità ancora... Per le aziende di fronte. Ancora in parte inespresse, però c'è voglia da parte sia della cittadinanza soprattutto... Dipende dai cittadini che... E anche dall'amministrazione di riuscire a far fare quel salto di qualità che tutti ci aspettiamo. Ma parliamo della festa. Quello che conta. Siamo dentro la festa. Allora, prima di tutto la parte gastronomica, quella che interessa i nostri ascoltatori. Che si mangia? Beh, il menù è variegato. Da anni è così. C'è sempre un'ampia scelta sia carne che pesce. Per cui quest'anno non tradisce le attese. Pertanto, primo di carne e primo di pesce. Ricatone amatrigiana, raviolo di pesce. Poi frittura di pesce. È la classica grigliata che proponiamo ormai da tantissimi anni. Grigliata di carne? Carne, assolutamente. Cosiddetta grigliata fonte di mare. Arrostigini e tanto altro. E poi la musica a volontà. Avete bellissimi gruppi. Sì, abbiamo tre serate. La prima musica di qualità dal vivo, pop rock. Accompagnati poi lo spettacolo di Elisabetta Sabatini. Che è una comica frizzante. Di dove è? Locale, tra l'altro. Locale. E poi domani sera doppia esibizione con Andrea Bonifazi, il suo gruppo. E Forte Forte Live Show, che è un tributo a Raffaella Carrà, quindi ci sarà da divertirsi. E poi domenica si chiude con Andrea Genzi, sempre musica da ballare. Tutto questo inizia col comitato dal 2001, 23 anni fa. Sì, poi sono succeduti diversi direttivi, però diciamo ecco, mio padre è l'esempio vivente dal 2001, ma anche con il precedente comitato degli anni 80, che è sempre sul pezzo. Vogliamo ricordare uno dei fondatori del quartiere? Beh, sicuramente c'è stato Giuliano Venanzi, che è stato presidente per tanti anni e tuttora nel nostro cuore come presidente onorario, ma non solo lui. Pertanto, ecco, oggi ci troviamo comunque con un nucleo che speriamo di allargare, perché ha la generazione dei giovani un po' meno numerosa, quindi si fa un po' più fatica, però quelli che ci sono ci mettono il cuore. Amici, da Porta Santepidio un esempio di socializzazione attraverso le attività ludiche, estive, ormai siamo in piena estate, forse troppo velocemente è arrivata l'estate, ma qui a questo splendido quartiere che si chiama Fonte di Mare si fa sul serio. E penso che l'amministrazione firmando il progetto di aggregazione ha fatto un'operazione importante che a questo punto, caro sindaco, dovrei portare a compimento. Amici, Porta Santepidio è una città in crescita, i quartieri socializzano, le bellissime sagre che si fanno in tutti i quartieri, ma soprattutto gli eventi di Porta Santepidio, enjoy, c'è anche un'app sindaco. Sì, oggi abbiamo presentato un'app che accompagnerà non solo la nostra stagione estiva, ma anche tutti gli eventi che organizzeremo nella nostra città da qui in avanti. E sarà anche un utilissimo strumento per promuovere la nostra città, le nostre attività turistico-ricettive, le nostre attività commerciali, ma anche per dare informazioni che riguardano la quotidianità del nostro territorio. Soprattutto la sicurezza, perché in questi giorni è stata affrontata con estremo rigore e alcuni abusivi sono stati, diciamo, presi in carico delle forze dell'ordine. Sì, è incessante il lavoro delle forze dell'ordine, della nostra polizia locale, come di tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, guardie di finanza, che continuamente operano sul nostro territorio a garanzia di quello che è un diritto fondamentale di ogni cittadino, che è quello a essere sicuro, a garantire una serenità ai nostri cittadini che devono avere. È incessante il lavoro che fanno, sono state compiute delle operazioni negli scorsi giorni, sia dalla nostra polizia locale, recuperando, rintracciando due ragazzi che avevano commesso un furto alla stazione dei treni, così come ieri un intervento fatto per sgomberare un terreno abusivamente occupato da soggetti estracomunitari che li bivaccavano, quindi una situazione di degrado che doveva essere cessata assolutamente. Se pensiamo che la bandiera blu che è stata assegnata a Porzio Antepidio stona con questi eventi? Sì, la bandiera blu è stato un grandissimo risultato, anche per questo c'è bisogno di uno sforzo ulteriore per garantire a tutta la nostra comunità quella sicurezza che merita. La bandiera blu sarà comunque un driver di sviluppo per questa città, l'abbiamo riconquistata dopo cinque anni con un grandissimo lavoro che è stato svolto da tutta la mia giunta, in particolare dall'assessore Bracalente che ha attivato sin da subito, sin dal ricordo che le prime iniziative che abbiamo fatto per mettere in atto quel progetto di riconquista della bandiera blu risalgono al mese di luglio dell'anno scorso. Sono state fatte moltissime iniziative nelle scuole di educazione ambientale perché è tutto incentrato sulla sostenibilità, perché il turismo ormai o è sostenibile o non sarà più turismo. Sindaco, mi permetta il contatto diretto con Bruxelles, con l'ingresso in regione dell'onorevole Carlo Ciccioli, Porso Antepidio è legata a stretto filo diretto con Bruxelles. Sì, l'onorevole Carlo Ciccioli ha raggiunto uno straordinario traguardo per tutte le marche, perché rappresenterà un'intera regione al Parlamento europeo, sarà un riferimento per tutte le marche, perché dall'Europa passano quelle che sono le scelte cruciali per lo sviluppo del nostro territorio, delle province e delle regioni e per dare risposte concrete ai cittadini. Con Carlo Ciccioli avremo un riferimento in grado da fungere da raccordo fra le istanze che provengono dai cittadini e dalle comunità locali fino ai più alti livelli delle istituzioni. Ecco, questo quartiere sindaco veramente rappresenta una perla per la città, anche se gli altri non sono da meno. Sì, dal quartiere Fonte di Mare parte l'estate, oggi è il 21 di giugno e noi celebriamo l'estate con il quartiere Fonte di Mare, che è il primo quartiere che inaugura la lunga stagione delle feste dei quartieri della nostra città. Partiamo da qui, un quartiere che seppur piccolo, perché è uno dei più piccoli della nostra città, ma ha una vitalità, ha una vivibilità, ha un fermento che non è uguale, per cui riescono sempre ad allestire dei grandissimi eventi che abbracceranno tutta la città. È un quartiere che è sempre presente in ogni iniziativa che la città di Porto Sant'Elpidio organizza, dal primo maggio alla notte più rosa a tutti gli eventi, li vedono sempre impegnati in prima fila. È un quartiere che avrà nei prossimi anni uno sviluppo che sarà centrale per tutto il territorio. Abbiamo oggi elaborato un progetto per il nuovo centro di aggregazione di quartiere che vedrà la luce nei prossimi mesi, contiamo per il prossimo anno di realizzarlo e quindi di inaugurare anche questo importante luogo di aggregazione per il quartiere, ma poi anche opere che sono centrali baricentriche per tutto il nostro territorio. Poche settimane fa siamo stati qui insieme all'assessore regionale Baldelli proprio per inaugurare l'avvio dei lavori al ponte ciclo bedonale che ci connetterà con Civita Nova Marche, un'opera importantissima che permetterà ancora di più a questo quartiere di essere centrale per lo sviluppo di tutta la nostra comunità. Grazie sindaco.